Angela ASMR Ciao Inizia a far caldo vero? Ho qui con me Tutti i miei vestiti estivi Che sono comodissimi Mi fanno sentire a mio agio Nelle giornate in cui fa particolarmente caldo E voglio farteli vedere Magari puoi prendere spunto La maggior parte sono vestiti morbidi Che cadono morbidi Soprattutto sulla vita Sui fianchi Le maglie che predilico sono tipo questa Oppure le canottiere Proprio su manichette Invece le maglie con le manichette Tendo a discluderle Perché mi soffocano la parte delle scelle E non consentono alle mie scelle di traspirare Naturalmente Naturalmente Questa cosa è un po' Da stare male Quindi preferisco indossare Tutti quei vestiti smanicati Nel periodo estivo Ti faccio vedere quali sono Questo è uno dei miei top preferiti Questo è uno dei miei top preferiti L'ho preso da Tali Whale L'anno scorso O due anni fa Sì, due anni fa Mi piacerebbe comprarmene qualcun altro Se riesco a provarlo Magari di colorazioni diverse Questo mi piace indossarlo con i jeans a vita alta Oppure, se voglio stare più comoda Con una gonna vita alta Così da lasciare scoperta solo Una piccola porzione di punch Non da tutto l'atomo Che solitamente tengo scoperto Per i miei spettacoli di dance Ma quando esco Non mi piace tenerlo in bella vista Se si vede poco Mi sento più a mio ancio Rispetto a quando si vede proprio tutta la pancia L'umelico Strano, vero? Tendo a scendere lo spettacolo Della mia vita Comune di tutti i giorni Sono Due lati della mia personalità Che tengo separati Quindi questa maglia qui La indosso con una conna tipo questa Questa è di colore blu elettrico Royal blue Come vogliamo chiamarlo Blu molto molto intenso Che mi fa pensare Al mare profondo Ed è una conna in chiffon Che ho comprato Da H&M Due anni fa Pure questa Quattro anni fa Ne avevo presa una identica Nel modello Sempre da H&M Di colore nero Anche quella La sfrutto tantissimo In pratica È tutta di cifone Lunga Fino alle caviglie Ci sono degli spacchi laterali Sicuramente Me li avrei vista Indossata Nelle foto su Instagram Mi segui su Instagram Li metto tante tante foto Che a me piacciono Da impazzire le foto Questa gonna è foderata Fino a poco sopra il ginocchio Per non trasparire Mentre dal ginocchio in giù Si intravetono le gambe La sua trasparenza È sensuale e femminile Però non è volgare È di una gonna molto morbida Vita alta In pratica Quasi non si sente addosso Però copre Questa don La indosso anche con Una camicetta Che metto dentro Oppure Un top Tipo questo Questo top È molto molto grazioso L'ho preso da Tally Whale E ce l'ho dello stesso modello Tutto nero pure Ho l'abitudine Di comprare Delle cose In generale Dello stesso modello O di colorazioni diverse Quando mi piacciono tanto Ed è un bustier Che si apre Sul davanti con La cerniera In questo modo Ecco Inoltre c'è anche la possibilità Di togliere le pretelle E lasciarlo Completamente scollato O le pretelle Non le tolgo Quasi mai All'interno Sul bordino C'è un filo Di silicone Per Migliorare l'aderenza Nella zona delle coppe Non farlo scappare Neanche quando ci si muove tanto E credetemi Sono una persona che si muove tanto Questo top Lo metto con quella con Che avete visto poco fa Oppure Se per esempio Se io faccio una passeggiata In spiaggia Se fate in una località di mare O se vado in qualche evento in particolare Voi Voglio vestirmi un po' più sexy Con gli shorts Gli shorts Jeans Gli shorts jeans Ne ho soltanto un paio Perché Spesso Ne ne provo Tanti nei negozi Ma Non riesco a trovare il modello Che mi stia bene Spesso li fanno Esageratamente scambati Nella zona del sedere E sembra Di stare in mutande Non con dei pantaloni Oggi Non mi sento il mio occhio In quel caso Preferisco quelli che coprono un po' E' così Questi sono i miei shorts Sono un po' Struppati subito davanti Anche questi di Tully Whale Hanno il rispoltino Con la strappatura Sul porto E non c'è la cerniera Per chiuderli Ma dei bottoni Sono tutti i bottoni Questi shorts Mi stanno Comodissimi Solo che Se devo stare troppo tempo seduta Mi stringono un po' La parte della coscia anteriore Quindi In questi casi Evito di indossarli A volte li indosso Per andare in spiaggia Per fare proprio una passeggiata in spiaggia Io amo un passeggiata in spiaggia E tu? Quando vado nelle località Palleari Vedo che c'è tanta gente che preferisce Camminare sul lungomare Mi piace proprio camminare sulla sabbia A piedi nudi Sentire la sabbia proprio che mi accarezza La pianta dei piedi È una bella sensazione Almeno per me Questa è una maglia che letteralmente amo Sia per il colore Sia per la stampa che ha È di Saracol Questo brand mi piace particolarmente E vi sono stampati Due pappagalli Della specie ara Se non mi sbaglio sono degli Aramacao Ripetiamoli Magari tu ne capisci più di me In caso Se ho sbagliato dimmelo Mi piacciono moltissimo le maglie con gli animali stampati Però dipende che animali Tipo con i gattini Con giraffe Poi con i pavoni ho tantissimi vestiti Sia maglie che abitini Questa è tutta di cotone È morbidissima Ed ha lo scollo a barca Di solito tende A cadermi da una spalla Oltre dall'altra rimane su Probabilmente dovremmo stare così Ma non saprei A me cade O sinistro adesso Da una parte insomma Cade sempre Peccato che prima o poi si invecchierà Però di poterla sostituire con una maglia con animali diversi Ma è probabile che mi stancherò Questo è uno dei pochi capi di abbigliamento che ho di colore giallo Ed è un giallo che mi piace molto Questa addirittura è stata la prima maglietta gialla che ho comprato tutta la mia vita Mi ricordo quando l'ho comprata Penso 5-6 anni fa Qualcosa del genere Oh si Conte vestiti storici nel mio armadio Assolutamente Ma poi che le indosso spesso Facciamo proprio si invecchierà Pazienza Questo è un top Lungo Che mi sta comodissimo E' morbido E' non è addillato E' tutto in cotone Sempre disaracollo Però Nonostante sia taglia esse Mi viene leggermente grande Sulla zona del seno Questa per me è un po' una pecca Perché Sono molto precisa Infatti è rimasto nuovo nuovo L'ho indossato poche volte Dovrei stringerlo mi sa Però è molto bello Proprio questo colore mi piace tanto Ed ha Questi bellissimi strassini Sulla scolatura davanti Ecco appunto è una taglia esse però Mi viene l'arca soprattutto qui E' proprio il modello Non è fatto per me Ci studierò Per sistemarlo Prima di indossarlo di nuovo Questo metodo a parte Magari Do una cucitina E lo aggiusto Poi ci sono due vestitini Che indosso per uscire così Abitualmente Hanno un tocco di eleganza però Sono Di uno stile Po Tipo figlie di fiori Molto morbidi E questo stile mi piace Veramente tanto Vorrei comprare qualche altra cosa Quest'estate Proprio di questo stile Vi faccio vedere quali sono Uno Me lo avrai sicuramente visto per intero In diversi video Perché l'ho indosso tanto E ce l'ho da tantissimo tempo Non mi ricordo dove l'ho comprato Avrà almeno dieci anni Se non di più Il vestito è questo E' un po' trasparente sopra Però coraggi se non ero Si vede ben poco Adesso c'è la luce Ovviamente Trasparisce Tantissimo C'è la manichetta Ma è una manichetta morbida Tutto Di una stoffa stile chiffon E qua si chiude Con due lacci Facendo un fiocco Questo lo posso regolare Quando voglio stringerlo E poi C'è La parte finale di quest'abito Che è una balza Proprio sotto Piena di fiori Di colorazione violetto Lilla E color fresia C'è anche qualche Orchidea gialla Non so se si chiama orchidea questo fiore Forse è un orchidea Questa Questa qui Ecco Ci sono motivi vegetali Di ogni genere Delle rose Questo vestito Era trasparente Nonostante avesse La sottoconna di suo Che è questa qui La sua sottoconna Ma la sottoconna Trasparente E ho voluto mettere Una seconda sottoconna L'abbiamo cucita con mia madre Questo modo è Praticamente impossibile Che trasparisca Le conne trasparenti Proprio non Mi piacciono Magari sopra un po' trasparente Ci può stare Ma le conne proprio no L'ultimo vestito Che voglio farti vedere È lungo fino Quasi sopra le caviglie Ed è tutto bianco È di un tessuto Particolare Viscosa E cotone E ha La parte Sopra In croquet Tutta Ricamata Tipo un centrino E poi C'è la gonna A tre palce Dietro si chiude con Un laccetto Facendo un fiocco Così Un fiocco E si chiude E questa la indosso Sempre Con una sottoconna Questi sono Tutti i vestiti Più comodi Che ho per l'estate Spero di fare ancora shopping Di vestiti Per ora sto facendo economia Perché Vorrei comprare Una Macchina fotografica Una reflex Per il canale Poter fare Sia le foto Da postare su Instagram Sia per fare Elementi grafici Per il canale Sia anche per fare i video Video in HD Di una certa qualità Nonostante abbia Una videocamera HD Sony Non sono pienamente soddisfatta Del risultato Poi vorrei fare Tanti roleplay particolari Cambiando lo schermo Utilizzando il chroma key Sarebbe a dire Quello sfondo verde Che si utilizza Per poi Toglier via Con il programma Di editing E sostituire con Uno sfondo a piacimento Che sia Animato O fotografico Quindi ho un lavoro Piuttosto elaborato Che richiede Un attrezzatore professionale Che al momento Non ho In tutto e per tutto Ho le luci Il cavalletto O il microfono Manca La macchina fotografica La reflex Mi sto provicando Proprio Per acquistare Una reflex Sto ricevendo Diverse donazioni Per questo canale E ringrazio Tutti coloro Che generosamente Stanno donando qualcosa Grazie Grazie Infinitamente Inoltre ringrazio Te che stai guardando Questo video adesso Che mi ha tenuto compagnia Per me significa Davvero molto Semplicemente La tua presenza Grazie infinite Ti auguro Una dolce notte Ciao 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 Ciao